È stata una decisione molto sofferta, però abbiamo fatto il massimo della trasparenza in streaming. Tutti quanti hanno potuto dire e parlare, sono stati più di 60 interventi. Ai quattro senatori viene contestato di aver definito pubblicamente un'occasione persa il faccia a faccia di Deppe Grillo Correnze e le consultazioni e più in generale di aver violato nel tempo il codice di comportamento del movimento. Stavo cercando di formare una corrente in sé interna. una corrente interna e quindi una corrente interna porta a quel proprio volino, fa la propria comunicazione, cerca di convincere gli altri per far diventare magari il movimento qualcosa che non è. Se io non sono desiderato in una casa che non sento più mia, io posso decidere di fare una guerra interna affinché possa tornare ad essere mia, sempre che lo sia mai stato, altrimenti posso provare a comprare un'altra casa, a trasferirmi altrove. eppure